Ciao sono Olaf e amo i caldi abbracci Ciao sono Olaf e amo i caldi abbracci Ciao sono Olaf e amo i caldi abbracci Quando fa freddo metto sciarpa, guanti, cappello, paraorecchie e vorrei anche brevettare uno scaldanaso Io sono proprio da guanti, sciarpa, tutto, sono super coperta quindi sì sì assolutamente Guanti e sciarpa certo, ma anche calzini di lana, ma pure mutande pesanti Per fare Elsa bisogna un po' agitare le mani, fiocchi di neve, ghiaccio che parte Anna vai via No non posso interpretare Anna, Anna è serena Rossi e lei Non l'avrei, non ci sarei riuscito, sarei riuscito a cantare come le due serene Cambia il mondo ma qualche cosa non cambia mai Come stare insieme e la gioia che tu mi dai Il potere sta crescendo non è semplice però se nel mondo immenso dell'ignoto andrò Se diventi grande ha un senso tutto e la prospettiva cambierà Ciao! 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 Grazie a tutti.